benvenuti in un nuovo video di esperimenti in garage oggi andiamo a vedere questo nuovo dispositivo che ho acquistato recentemente che è una chiavetta di acquisizione video con hdmi il prodotto in sé è semplicissimo ha proprio la forma di una chiavetta da un lato c'è l'usb 3.0 che va inserita nel computer e dall'altro c'è l'hdmi femmina cui vanno collegati i dispositivi che inviano il segnale video questa chiavetta nello specifico è l'elgato cam link 4k può acquisire in full hd a 60 frame oppure in 4k a 30 frame al secondo nella confezione è incluso anche un piccolo cavo di prolunga usb 3.0 che può tornare utile per evitare di forzare la porta usb del computer mi sono procurato anche un paio di piccoli cavi hdmi extra perché voglio provare a collegarci diverse telecamere ovviamente l'hardware è nulla senza il software come programma di acquisizione io consiglio obs studio un programma gratuito e molto potente con diverse funzioni di acquisizione obs infatti riconosce immediatamente questo dispositivo di acquisizione senza bisogno di installare alcun driver ed inoltre permette anche di acquisire ad esempio lo schermo del computer potendo passare da una scena all'altra aggiungendo effetti quindi è un programma molto molto versatile con molte funzioni e come output possiamo non solo registrare quello che stiamo acquisendo ma anche creare una telecamera virtuale che poi verrà rilevata dai vari programmi con cui si possono effettuare videochiamate oppure per trasmettere in streaming quindi il vantaggio lo scopo di una chiavetta di acquisizione hdmi è quello che ci si può collegare qualsiasi telecamera ed utilizzarla praticamente come webcam oppure si può utilizzare per registrare direttamente nel computer quello che sta riprendendo la telecamera senza usare la memoria della camera stessa e infine come ulteriore scenario si possono appunto combinare il flusso video della telecamera con l'acquisizione dello schermo fare la regia in obs e trasmetterla in streaming su twitch youtube o qualsiasi altro social insomma questa chiavetta legata è un dispositivo minuscolo ma in combinazione con obs sblocca delle funzionalità pazzesche adesso lo andiamo ad inserire e ci collego qualche telecamera ok inserisco la chiavetta provo a fare un po di ordine qui sulla scrivania allora parto collegando la gopro che ha un'uscita micro hdmi però basta avere il cavo adatto e si può collegare benissimo in obs di default abbiamo una scena con la cattura dello schermo quindi in questo caso aggiungiamo una nuova scena aggiungiamo dalle fonti dispositivo di cattura video ok e abbiamo già selezionato cam link 4k infatti abbiamo il flusso video della gopro come vedete ora ho il flusso video della gopro e in obs qui sulla destra ho il controllo per le uscite quindi posso registrare quello che sto vedendo posso avviare una fotocamera virtuale per altri programmi oppure avviare direttamente la diretta dopo aver ovviamente collegato obs a uno dei social su cui trasmettiamo come dicevo prima obs permette di fare una regia delle nostre scene quindi qui ad esempio abbiamo le transizioni di scena abbiamo una semplice dissolvenza se vado a cliccare sulla prima scena c'è appunto una transizione verso la cattura dello schermo e oltre alle regie video obs permette ovviamente anche di fare un mix dell'audio quindi rileva le varie sorgenti sonore collegate al computer e tramite il pannello del mixer è possibile accenderle spegnerle e regolarne i volumi quindi tramite l'hdmi voi potete registrare anche l'audio della vostra telecamera e a tal proposito provo a collegare un'altra questa è una reflex nikon d500 e3 registra anche video ed ha un'uscita mini hdmi quindi serve un altro cavo ancora proviamo a collegarla questa è la cattura attraverso la nikon la qualità non è un granché provo a vedere se c'è qualche impostazione della telecamera che può migliorare la resa l'uscita era interlacciata quindi trasmetteva righe alterne con l'uscita progressiva la qualità è sicuramente migliorata ok smanettando nella reflex sono riuscito finalmente a creare un clean feed quindi un flusso video senza le varie scritte della telecamera in modo da poter effettivamente essere utilizzato inoltre una cosa che ho notato che si può fare sia nella gopro che nella reflex è che si può contemporaneamente sia registrare che trasmettere il flusso video attraverso l'hdmi quindi può tornare utile spengo anche la reflex perché ora come ultimo dispositivo voglio provare a collegare la black magic in questo momento la black magic è qui che sta registrando e su di essa ho lo schermino collegato via hdmi che però ha a sua volta un'uscita a cui posso collegarci un mega cavo di prolunga da far arrivare fino alla scrivania e fino alla chiavetta e il gatto ho un bel cavo di prolunga lungo 5 metri che dovrebbe arrivarci tranquillamente ed ecco qui il flusso video della black magic direttamente sul computer faccio un attimo un po d'ordine sulla scrivania perfetto sono riuscito a cambiare qualche impostazione anche nella black magic per ottenere un clean feed e senza bande nere c'erano due piccole bande nere in precedenza perché registravo in modalità dci quindi 4096 per 2160 mentre registrando in 4k quindi 3840 per 2160 ho esattamente il rapporto di 16 noni e non rimangono le barre nere in questa schermata però la risoluzione cambia veramente di poco in questo momento sto ovviamente registrando sulla black magic ma con questo setup in teoria potrei registrare anche direttamente sul computer evitando quindi il passaggio di dover copiare i file dalla telecamera al mio computer la limitazione sarebbe quella di poter registrare al massimo in 4k 30 frame oppure in full hd a 60 frame mentre adesso sulla black magic posso registrare in 4k 60 frame in raw la registrazione direttamente sul computer non permetterebbe di sfruttare appieno la qualità messa a disposizione dalla black magic però sarebbe sicuramente un flusso di lavoro molto più snello molto più veloce e permetterebbe ovviamente anche di fare delle live o degli streaming quindi l'accoppiata tra la chiavetta di acquisizione elgato e il software obs permette di creare dei workflow video incredibili con delle funzionalità pazzesche sia per la registrazione direttamente sul computer oppure appunto per lo streaming o le videochiamate la spesa è minima obs infatti è gratuito la chiavetta elgato costa all'incirca un centinaio di euro ce ne sono altre versioni di altre marche ma io diffiderei per evitare di avere dei problemi riguardo a lag a frame che saltano insomma con questa chiavetta andate sul sicuro e alla fine anche per oggi è tutto come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale di seguire su instagram la pagina dei red studios e noi ci vediamo al prossimo episodio di esperimenti in garage ciao ciao